Ma è staccato il microfono. Carla se regge per opera dello spirito santo. È avviato? Entra dentro! No, devi riprendermi i brevi scalini se arriva all'ingresso. Cazzolini. Sprire. Eccoci qua. E c'è la macchina del caffè che ora è scollegata. Aspetta, fai avviare. È stancante, eh? Che c'è sulla bocca, un peggio di tabacco, c'è sta a me. Proprio l'apro sotto, sull'avra. Ho viaggiato tutto su stampo così? Sì, sì. Troviamo questo lì perché come vedete lo stile è molto... Come si dice? E visione grande. Tu? No, non mi sentite. Eh? Non mi sentite lo spesso. Sembra una peggio di vino. Non importa. Tu? Per costante. Per chi mangia. Vabbè, taglio. Allora, adesso. Perché? Vabbè. No, porta... Come stanno? Una... Una band di panni. Cari, la leone scarpi. Perché? 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 Sto a sudare. Vuoi sto un po' un po'? No, no. Ok. Molto bene. Regista, seguimi. Spero che questo video... No, tanto di cui c'è troppo rumore. Ripetendo di me. Sai? Ci troviamo, Nella. Sento caldo, ma affanno. È difficile sussurrare. Qua ci troviamo. Come vedete... Sti cazzi. Vabbè, lo troviamo. Entra, cazzo. Come stai registrando male, eh? Gira. Dai, aspetta. Oddio. Soppa. Ora soppa. Silinca sotto. Che stai fa? È per il caldo, un po' scoppia. Soppa.